Il concorso per raccontare la storia della Regione Piemonte attraverso la visualizzazione dei dati pubblici arriva allo sprint finale. Tutti i lavori andranno presentati entro il 31 gennaio. Sul sito piemontevisualcontest.eu sono disponibili tutti i criteri con cui verranno valutati e premiati i lavori e tutti i membri della giuria.